Ciao a tutti, sono Luca Zulu, sono qua nel centro, nel cuore pulsante della Val di Susa che resiste e ci sono venuto con molto piacere, ci sono tornato con molto piacere perché sono una vecchia conoscenza di queste valli anche se mai troppo conosciuta quanto vorrebbe essere conosciuta la conoscenza, sto parlando di me in terza persona dove è tutta colpa dell'alcol che è anche una delle qualità di questa valle che comunque non ha niente a che fare con quello di cui dobbiamo parlare che è il fatto che questa valle è in pericolo e l'unico modo per salvarla è mobilitarsi e fare ognuno quello che può qua tutti fanno quello che possono, è un plebiscito, il resto d'Italia è il problema quello che possiamo fare è provare attraverso anche questi strumenti a sensibilizzare la gente a ricordarsi che quello che accade oggi in Val di Susa, che magari a qualcuno può sembrare lontano troppi chilometri per potersene interessare, domani potrebbe accadere nella tua valle per difendere tutte le valli del nostro paese e del mondo